Non c'è pace per i trasporti aerei sardi sulla continuità territoriale dei collegamenti dalla Sardegna verso la penisola, infatti, incombe Bruxelles. La Commissione europea ha comunicato alcuni rilievi che riguardano sia il bando per la CT1 non assegnato per Cagliari e sia quelli assegnati per Olbia Alghero, ma la regione si dichiara pronta a fornire tutti gli approfondimenti richiesti per difendere il diritto dei sardi alla mobilità. Si tratta della comunicazione formale dei rilievi sui quali abbiamo tenuto lunghe interlocuzioni sostenendo la nostra posizione, dichiara l'assessore trasporti Careddu. Non siamo disposti a subire l'ennesimo tentativo di subordinare le richieste essenziali della collettività a un regolamento comunitario generale che riconosce le problematiche legate all'insularità solo parzialmente, limitandosi a consentire l'attivazione di servizi minimi. Intanto, il ministro dei trasporti Graziano Del Rio salva i collegamenti aerei da Cagliari per Roma e Milano, firmando il decreto di proroga al servizio fornito al Vettore e all'Italia. Ma la Commissione UE, in attesa del nuovo bando per lo scalo del capoluogo, contesta formalmente alla regione i requisiti previsti dalle nuove gare per la continuità territoriale. Due già assegnate al Gherola Bluair e Olbia Meridiana. I punti toccati dalla Commissione Europea riguardano le frequenze, la capacità, le tariffe e una serie di obblighe addizionali contenuti nei nuovi bandi che per la regione sono invece ritenuti fondamentali al fine di garantire un diritto sancito dalla Carta Costituzionale. La contestazione che arriva da Bruxelles potrebbe però trasformarsi in una procedura di infrazione per aiuti di Stato, con l'obbligo di restituzione delle risorse pubbliche erogate alle compagnie aeree dalla regione. Siamo tutt'altro che rassegnati, sottolinea l'assessore dei trasporti, e continueremo convintamente a far valere le nostre ragioni a Bruxelles, tenendo in considerazione il fattore tempo. Abbiamo un confronto aperto con le compagnie aeree per individuare con loro la soluzione più appropriata.